Circa 400 persone hanno partecipato al comizio finale di Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco, alla vigilia delle elezioni che metteranno fine all'era Merkel. L'incontro si è svolto davanti al castello di Charlottenburg a Berlino. Dal palco sono intervenuti i principali candidati di AfD. Accendi la tv, guardi il canale 1, 2 o 3, qualsiasi canale, quello che vedi è il clima, il clima, il clima, ma sono questi i veri problemi della gente, non sono l'apocalisse del clima, la crisi climatica, è il declino del benessere, l'inflazione, i fattori di costo, la sicurezza energetica e la sicurezza del nostro paese, ha attaccato il collider del partito, Tino Ciupralla. Siamo l'unica forza di opposizione al Bundestag tedesco, ovviamente fa male e posso dirvi che saremo più forti nel nuovo Bundestag di prima, ha aggiunto Alice Weidel. stando ai sondaggi alternativa per la Germania, attestate attorno al 10% dei consensi, subito dopo i liberali di FDP e i Verdi.